La guerra degli Emu è un episodio storico avvenuto in Australia nel 1932, che ha visto come protagonisti l'esercito australiano e un gran numero di Emu, un tipo di uccello nativo dell'Australia, incapace di volare. Dopo la prima guerra mondiale, molti ex soldati australiani e veterani britannici iniziarono a coltivare in aree spesso marginali dell'Australia occidentale. A seguito della grande depressione nel 1929, questi agricoltori furono incoraggiati ad incrementare le loro coltivazioni. Tuttavia, si scontrarono con un ostacolo inaspettato, un gran numero di Emu, che si riversarono senza controllo nell'Australia occidentale, distruggendo le colture. In risposta a questa situazione, le autorità australiane decisero di intervenire con una operazione militare per cercare di limitare la popolazione di Emu. Questa operazione vide l'impiego di soldati armati di mitragliatrici, e la stampa iniziò a riferirsi a tale operazione con il termine guerra degli Emu.